...eve niente che sono scopi da grande e più su... ...allora... 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 ...se inventa di essere malata... ...e quando la scusa della malattia non prege più... ...a te con le minacce... ...e quando la scusa della malattia non prege più... ...se quando vuoi a distanza e durando... ...avresti subito a metterla di persone... ...pippo... ...eh? Anacleto... ...pippo... ...pippo... ...dove sei? ...pippo... ...è cambiata la merce... ...ma non sono cambiate le modalità... ...il prezzo è molto basso... ...bassi i braccianetti... ...e non lo pagano di 100 euro... ...i toghi si pagano il tempo... ...e non è chiesto di effettuare il pagamento... ...e che il tuo modalità è molto cordiale... ...e che invece... ...ciao il tuo nome... ...manciari... ...e che l'ho detto subito... ...non l'aveva fatta sentito oggi... ...la merce... ...come al solito... ...non è arrivata... ...non hanno cercato il suo nome su internet... ...ci ha trovato il nostro servizio... ...le ha mandato il messaggio... ...e che l'ho detto...